Ciao da Autoriparazioni Nuova Carta, stiamo ultimando le ultime vetture, devo purtroppo comunicare a malincuore che questa sera venerdì alle ore 18 dovremo chiudere il nostro servizio per l'autoriparazione Nuova Carta. Spero che sarà solo una breve tregua, che duri solo 15 giorni, io penso se il decreto ci darà la possibilità di riaprire il 30. Quindi tutti i clienti potranno seguire i nostri canali online, il nostro sito www.novacartauto.it, la nostra app già per prenotare nuovi servizi dal 30 in avanti My Push Up. Mi raccomando, segui i nostri canali YouTube Autoriparazioni Nuova Carta, il nostro sito, la nostra pagina Autoriparazioni Nuova Carta e il nostro blog. Io non abbandono nessuno, vi seguirò in questi 15 giorni, continuerò la nostra formazione ad ampliare i nostri servizi, migliorare tutto quello che ci servirà per riaprire al meglio e dare il miglior servizio. Mi raccomando, tenete duro, lo so che è una grossa cosa questa, più grossa di noi, però dobbiamo sperare, dobbiamo cercare di passare questo periodo, starci vicino e sperare che si riapra al meglio. Grazie a tutti.